Il Comune di Chieti decide di concedere di nuovo l'affidamento del Palazzetto dello Sport di Cole dell'Ara alla ASL Lanciano Vasto Chieti per la campagna vaccinale anti-covid e scoppia la polemica. Il capogruppo della lista di Iorio Sindaco, Bruno Di Orio, e gli altri consiglieri di minoranza non sono d'accordo e chiedono che l'impianto torni ad essere adibito alle attività sportive, poiché, spiega Di Orio, ormai l'emergenza pandemica è diventata endemica, mentre la città risente della carenza di strutture sportive. Quindi è una situazione endemica per cui la necessità di allertarci come quando fu necessario negli anni precedenti non c'è più. Oltretutto il numero è limitato perché tra i pluri vaccinati, tra i pluri contagiati, i pluri ammalati e contagiati e rivaccinati sono rimasti pochi quelli a doversi ancora vaccinare e probabilmente aspettando i 120 giorni canonici per effettuare il nuovo richiamo se arriverà a gennaio o febbraio a rivaccinare. Per cui bloccare un'altra volta una struttura esiziale per la crescita psicofisica dei ragazzi non è limitata l'attività sportiva a due colpi ad un pallone. Le strutture sportive a Chiedi sono carenti. Ieri l'assessore allo sport ha sparato 18 situazioni sportive a disposizione della cittadinanza. Sono tutte fittizie. Tornando alle vaccinazioni si vuole fare questo? Si vuole vaccinare? A settembre, ottobre, novembre partiremo le vaccinazioni di influenzali che forse faremo anche in contemporanea con quelle vaccinali per il Covid. Le facciamo in ambulatorio in medicina generale tutti gli anni. Perché non le posso fare qui? Le facciamo tutti noi medici per un bene supremo della salute. Ci si organizza, si fa in ambulatorio. Il sindaco Diego Ferrara, che come il dottor Di Iorio e anche medico di medicina generale, replica che pur essendo terminata l'emergenza, la pandemia non è finita e il governo vuole che la campagna sui territori continui. Ma in città comunque ci sono diverse strutture sportive. Ci è stato chiesto espressamente di continuare ad avere a disposizione della ASL questo luogo per continuare la campagna vaccinale. Noi non abbiamo avuto nessun problema affinché la ASL prendesse in convenzione il palazzetto. Glielo abbiamo concesso fino a giugno 2023 con la clausola che se il governo dovesse decretare la non più utilità della vaccinazione, il giorno dopo il palazzetto dello sport ci verrà riconsegnato. Dico solo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che la pandemia sta volgendo al termine ma che non è ancora terminata e ha fatto secondo me un paragone estremamente calzante. Ha detto che è come il maratoneta che sta per arrivare al traguardo si ferma come per dire ho già vinto. Quindi noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere come istituzione locale fino a quando non ce ne sarà bisogno.